It's hot time, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty, I've been down, isn't it a pity, doesn't seem to be a shadow in the city, all around, people looking half dead, walking on the sidewalk, harder than a matchhead. Lunedì 23 luglio 2018, benvenuti a un nuovo appuntamento con Summer in the City, ultima settimana di programmazione, lo sappiamo, stiamo raccontando quello che potete fare quest'estate qui a Milano e quindi oggi abbiamo voluto invitare un assessore, un assessore di un municipio, il Municipio 6, benvenuto a Sergio Miazzi, buongiorno assessore. Buongiorno e buon mezzogiorno a tutti. L'abbiamo invitato anche perché come Municipio 7 hanno messo in piedi una bellissima serie di iniziative, un bel calendario per non annoiarsi in questi mesi estivi a Milano, anche se poi continuiamo a sentire gente che dice che ormai agosto è il mese migliore per rimanere a Milano, dicono tutti. Io confermo, lo confermo sulla mia pelle. Milano d'agosto è bellissima perché ovviamente il tasso delle persone che va in ferie è ampio e quindi si circola benissimo, ci sono tantissimi eventi, ci si gode veramente tanto la città e questa era un po' l'idea che noi abbiamo pensato di approntare, anche se non in pieno tutto agosto, perché ovviamente ci sono dei problemi anche per i municipi dal punto di vista del personale e dell'organizzazione e quant'altro, però abbiamo fatto questa rassegna che appunto parte dal 15 giugno e si protrae fino al 15-20 settembre. Quindi insomma, una bella estate in compagnia appunto in Municipio 6, come sarà il Municipio 6 a proposito Assessore? Allora, Assessore, Alla, Cultura, Verde, Ambiente, Urbanistica, Lavoro e Formazione. C'è un po' l'Assessore, Alla, eccetera, 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 nonché Vice Presidente del Municipio. Come sarà questa esperienza del Municipio? No, direi come tutte le cose sono da implementare, quindi i municipi sono appena partiti e ovviamente quando vai alla riorganizzazione della macchina comunale, che sappiamo che insomma è molto 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 complessa, è molto spesso e troppo lunga, ovviamente ci sono dei problemi, ci sono anche delle lacune, piano piano stiamo cercando ovviamente di lavorare per evitarle e nello stesso tempo ovviamente la questione, la materia è molto complessa e quindi va fatta anche con un minimo di attenzione. Sarebbe il caso ovviamente che i municipi iniziassero ad avere un pochino più di competenze, per esempio nell'arbitro commerciale secondo me, ma comunque tutte quelle competenze molto più vicine ai cittadini che ne hanno un gran che bisogno. Ecco, i cittadini incominciano a sentire i municipi come un interlocutore? Assolutamente sì, è la prima barriera in genere ai problemi, anche nei più svariati, cose che addirittura non sono di competenza nel municipio, no? E la parodia del gatto sopra l'albero, insomma ecco, questo è capitato in municipio che una signora appunto ha telefonato e ha un gattino sopra l'albero che non riesce a scendere. Ed è proprio per questo che appunto i municipi devono assumere assolutamente importanza, forza e soprattutto competenze, proprio perché è la prima barriera per il cittadino. E' anche molto interessante perché questo appello avviene in questo caso, ad esempio, da un municipio dello stesso colore, diciamo, del comune centrale, ma vengono stessi appelli anche da municipi, diciamo, all'opposizione. Cioè i municipi richiedono giustamente il potere, le competenze che necessitano e che forse anche i cittadini in realtà già gli attribuiscono in un certo senso. Cioè forse i cittadini vi hanno più potere di quello che in realtà poi avete, vi attribuiscono più competenze di quello che poi avete. Perché qualsiasi cosa passa da noi, anche se noi siamo molto spesso disarmati, possiamo solo fare a livello di comunicazione, quindi girare il problema, diciamo, alla parte centrale per una risoluzione. Alcune cose invece funzionano, per esempio nel decentramento, come per esempio il verde. Noi sul verde abbiamo fatto l'anno scorso otto interventi e io ho detto detto fatto, cioè ho fatto un rapporto di trasparenza con i cittadini, deliberando otto interventi di massima priorità. Abbiamo deliberato otto interventi, otto interventi li abbiamo fatti, quindi diciamo il dire e il fare è appunto dici delle cose e poi fai vedere che le cose le fai. E quest'anno nel 2018 siamo addirittura a sedici interventi sul verde pubblico. L'idea che abbiamo avuto è quella di lavorare molto sui bambini e sui ragazzi. I nostri parchi avevano bisogno di riamodernare i giochi per i bambini, abbiamo inserito il workout, credo il primo municipio del resto di Milano che ha il workout pubblico alla Barona. Ne faremo un altro in Viagonin, dove i ragazzi possono fare appunto delle esercitazioni fisiche durante le loro giornate. Ecco, il verde è molto importante, gli interventi infatti fondamentali, perché ormai insomma la gente li richiede, la gente vuole, i cittadini vogliono vivere sempre di più il pezzo di strada sotto casa, il municipio sotto casa. Il quartiere diventa sempre più importante, sta tornando, secondo me, non so l'assessore lei che vive il quartiere, che vive le zone, i vari quartieri del municipio, perché poi insomma il municipio 6 parliamo di una vastissima area fatta di tanti quartieri poi all'interno. Certo, assolutamente, la Barona Giambellino, Navidi. Non sembra anche lei che c'è sempre di più la voglia tra i cittadini di rivivere il proprio quartiere? Sì. Una cosa che si era persa un po' forse. Forse si era perso, oddio, quando ero ragazzino io, io sono nato in Giambellino, perché sono in una zona, diciamo, di Milano, e questa appartenenza era forte, no? Allora non c'era appunto il municipio 6 o la zona 6, erano più municipi, se non ricordo male 19, quindi la Barona era sotto un altro municipio, quindi avevi proprio il Giambellino e la Barona. Oggi è tutto molto unificato, seppur ovviamente queste particolarità sono rimaste. Sì, è proprio così, c'è voglia ovviamente di rivivere... Ed è molto interessante anche perché spesso questa voglia di vivere il quartiere arriva anche dai nuovi cittadini. Assolutamente. Dai nuovi cittadini che arrivano in Milano, scoprono Milano magari da chissà quale paese lontano e hanno la voglia proprio di vivere il quartiere e la zona. E quindi il municipio 6 cosa si è inventato per... Il municipio 6 si è inventato, che risposta dà, si ha dato una risposta, posso farlo vedere? Prego, prego, prego. È bellissimo questo. Sì, sì, benissimo. Resta in zona 6, è alla quarta edizione, ne facciamo due all'anno con un bando pubblico, dove chiediamo alle associazioni, alle compagnie teatrali, musicali, eccetera, eccetera, di poter intervenire, e dove facciamo sostanzialmente un cartellone di rassegna teatrale e musicale. Lo facciamo sia per il Natale e lo facciamo appunto anche per l'estate. Come dicevo prima, ci sono parecchie rappresentazioni, tra l'altro in musica nelle piazze. Abbiamo pensato di fare musica all'interno degli spazi verdi. Pochi giorni fa in Largo Balestra c'è stato un concerto jazz molto bello di grandissimi musicisti, c'è stata una buona partecipazione, siamo andati proprio là in Giambellino, siamo praticamente andati in un parco a regalare questi momenti musicali. E anche il teatro, l'abbiamo fatto in Solare 40 con linguaggi creativi, tra l'altro ha fatto anche un sold out, quindi era tutto occupato, c'erano le persone che si portavano le sedie, e poi a un certo punto abbiamo detto, guardate, va bene le sedie, ma non abbiamo più spazio, e quindi abbiamo dovuto fermare un attimo. Sì, no, assolutamente, c'erano 150 persone e una rassegna teatrale. Credo che questo sia un po' l'emblema di quello che noi in qualche maniera stiamo facendo e cerchiamo di far partecipare appunto. In questi giorni cosa abbiamo? In questi giorni abbiamo qualcosa in particolare? In questi giorni la domanda trappola era senza occhiali. Allora guardo io, che ho gli occhiali per quello. Allora siamo al 27 luglio, a Biblioteca Loventese, ti canto una storia. Esatto. La cosa particolare, ti interrompo per dirti, che la cosa particolare abbiamo pensato proprio a tutti. Abbiamo pensato ai grandi con il jazz, ai ragazzi con della musica per ragazzi, abbiamo pensato anche ai più piccini, i bambini, quelli che rimangono a Milano, che non hanno la possibilità di andare al mare, possono in qualche maniera avere la propria rappresentazione teatrale legata appunto alla loro età. E questo credo, usufruendo poi il punto, secondo me, cardine della cultura milanese, che sono le biblioteche. Se sono in prossimità, in periferia, ancora meglio. Ecco, Biblioteca che è un sistema molto importante e anzi, il Municipio di Senni ha alcune davvero, secondo me, importanti. Due. Sant'Ambrogio e abbiamo la Biblioteca di Vio Dazio. Due direttori fantastici, personale fantastico, che tutti i giorni si cimenta veramente nel regalare cultura praticamente a tutti i cittadini, quasi con una dedizione proprio. Sì, ma quasi è passato un secolo da quando qualcuno osava dire che con la cultura non si mangiava, no? Ecco appunto. Ormai invece ho visto che tanti municipi stanno veramente creando un nuovo legame con la cittadinanza grazie a momenti di cultura. Sono importantissimi, sono importantissimi, non c'è dubbio. Noi oggi in Italia stiamo vivendo già un decadimento delle persone, dei ragazzi che vanno a scuola. Abbiamo un bisogno estremo di regalare cultura. E quindi io credo che questo sia lo sforzo maggiore, oltre a tutti gli altri, che un municipio può fare, non solo un municipio. Ma poi lo sappiamo perfettamente, no? Basta vedere Firenze, io vado spesso a Roma per lavoro, ecco, la cultura si mangia. Sì, eh, quindi... E anche con l'arte, molto spesso. E anche con l'arte, appunto. E col verde si sta bene invece, mi vien da dire. Col verde si sta bene e... E non solo noi, cioè siamo bene tutti poi. Siamo assolutamente bene tutti. Io poi torno dai miei viaggi a Roma per lavoro. Sì. E vi posso, giuro, non lo faccio per polemica, però è un dato veramente di fatto. Quando torno a Milano e vedo i nostri parchi, i miei parchi, dico ragazzi, qua siamo veramente in un altro mondo. Certo, ci sono delle difficoltà, lottiamo contro i vandali, contro gli incivili, contro le persone appunto che non rispettano le regole. Devo dire che sia il settore verde, molto attento, e anche AMSA ad intervenire, ma i nostri parchi sono parchi di alta qualità. Musicchio, sai, dei grandi parchi, tra parentesi, molto vissuti anche, nel weekend sono veramente dei luoghi di grande regazione. Molto spesso abbiamo proprio il problema appunto di persone che vanno a fare le grigliate e quant'altro, no? Sono persone che generano poi un problema oggettivo alla cittadinanza, alla popolazione e soprattutto voglio dire al fatto che il giorno dopo o subito dopo devi passare con AMSA per pulire tutto quello che gli incivili in qualche maniera deturpano. Però, tutto sommato, devo dire che l'impegno è tanto, ma credo che oggettivamente i parchi del Municipio 6, in generale i parchi di Milano, sono parchi assolutamente molto vivibili e molto belli. Allora, abbiamo detto appunto, una rassegna che va avanti poi fino a settembre, ricomincia anche a settembre, con il modo che, insomma, anche un'ultima coda di estate per ricominciare lentamente. Sì, l'anno scorso l'abbiamo fatta finire i primi di settembre. Eh, però, cosa l'abbiamo fatto? Fino a 15 settembre. Esatto, abbiamo pensato invece, appunto, contro la desolazione del rientro di regalare ancora 15-20 giorni di iniziative, proprio perché uno si rientra al primo di settembre e dice, ma cosa facciamo? Abbiamo ancora 10 giorni, qualche iniziativa, andiamo e Milano ce la regala. E poi, insomma, si ricomincia a lavorare però, diciamo, un po' più lentamente, proprio in dissolvenza, quasi. Eh, sì, sì, sì. Non finisce di botto la vacanza, ma, insomma, questa cosa deve poter uscire la sera, andare appunto in uno spazio, magari come ad esempio vedo lo spazio 600, che è veramente bellissimo, con l'Ivia Savona che avete voi, oppure andare a teatro in mezzo a una biblioteca di Vio Dazio, insomma. Iniziala, si ricomincia l'anno in maniera diversa. Certo, cerchiamo appunto di riportare alla realtà i vacanzieri che tornano. Torniamo alla realtà anche noi, parliamo un po' del Municipio 6, dice, appunto, metà mandato siete, praticamente. Appena superato metà mandato, diceva lei, molto contento degli interventi che avete fatto sul verde. Cosa è che invece non è ancora riuscito a fare, ma che vuole fare entro la fine del mandato? Allora, quello che vorrei fare entro la fine del mandato sono tante cose. Per chi mi conosce sa che difficilmente, diciamo, mi fermo e quindi sono molto critico anche su me stesso e su quello che ci circonda. Bisogna analizzare la città nel suo, molto completa, nel senso, Milano è una metropoli, con problemi da metropoli. Quindi tutto, chi dice risolviamo tutto, è palesemente un bugiardo, non ce la può fare. Quindi deve andare ovviamente sulle priorità. La cosa che mi piacerebbe molto fare, soprattutto sui quartieri popolari, è aumentare l'inclusione sociale. E spezzare un pezzo. Milano non è insicura. Perché i dati della questura ci indicano che siamo a un meno 11% di reati rispetto all'anno precedente. Per cui anche, c'era un bellissimo libro di Tullio De Mauro, Guida all'uso delle parole. Quando si parla di sicurezza e degrado, bisogna leggere cosa vuol dire sicurezza e degrado. Io aggiungo spesso una parola che è percepita. Percepita, esatto. Quindi questo è il problema. E quindi il nostro compito è anche quello, ovviamente, di lavorare, ma di far capire, ovviamente, che queste due parole devono essere in qualche maniera accompagnate anche dei dati reali, che oggi non ci sono. Perché quando io parlo di degrado, parlo di una zona, per esempio, verde, che io non ci metto mano. Ma nel momento in cui c'è l'erba alta in una zona verde, dopo 15 giorni, con tutte le difficoltà del caso, arrivo e lo taglio, non si parla più di degrado. Si parla magari di un ritardo, ammesso che ci sia. E nello stesso tempo la sicurezza. Oggi io non ho un problema di uscire di casa, no? Fortunatamente, certo, poi Milano è una metropoli, tutto può capitare, può capitare anche a me. Però non esiste questo problema di sicurezza. Esiste un problema di inclusione sociale fortissimo, fortissimo nelle periferie. Questo non lo nego. E lì dobbiamo lavorare, dobbiamo essere addirittura più duri e anche più rigorosi nel far rispettare le regole da chi non le vuole rispettare. Anche se anche qui c'è una piccola anomalia sul caso, perché il municipio, ad esempio, non ha voce in capitolo di case popolari. Ah no, mi spiace, ma lì purtroppo è un problema. E li hanno lasciato senza degli strumenti, diciamo. Sì, lì ho un problema intanto. Faccio un esempio sul mio municipio, per non parlare di altri, che non è carino, ma nel nostro municipio ho fatto 100, l'80% sono case aler di Regione Lombardia. Quindi, come dire, la proprietà ovviamente non è del Comune di Milano. Se io faccio una radiografia, adesso non lo dico, ma insomma è del tutto evidente che è un po' di differenze tra le case di M&M. Io ho vissuto la scorsa consigliatura tutta questa separazione. So perfettamente, diciamo, in qualche maniera, quando ci sono state restituite le case aler, che molto spesso non si sapeva chi abitava, quali fossero le case, in che situazioni erano. Quindi, in una situazione, diciamo così, non ideale per una gestione. Aler ha ovviamente un problema, ha un problema sul Giambellino, sulla Barona, un problema appunto che quella proprietà non è men che meno curata. E quindi abbiamo bisogno, e noi lo vogliamo fare anche ovviamente con aler, con Regione Lombardia, con tutti gli attori, perché io credo che il problema di risolvere, gioco di parole, il problema dei cittadini non abbia un colore politico, non debba avere un partito, ma delle persone che operano tutte insieme per migliorare la situazione. E io credo che aler di questo ne abbia un assai bisogno. Basta vedere, se faccio una radiografia sulla via Odazio, via Sanniti, via Giambellino, via Segneri, insomma, è alla luce del sole. Ed è purtroppo ovviamente dei posti dove il comune e il municipio non può intervenire, fa fatica a intervenire se non ha un supporto forte di aler di Regione Lombardia. E con una parola di inclusione sociale, che cosa le viene in mente? Che tipi di interventi le piacerebbe poter portare sul suo territorio? Ma io intanto ne catalogo un po' due. Il primo è, come dicevo prima, il rispetto delle regole, è fondamentale. Anche quello è un pezzo di inclusione sociale, perché non si può parlare di inclusione sociale se non c'è il rispetto delle regole. E quindi c'è chi le deve rispettare e chi le deve far rispettare le regole. Questo credo che sia determinante e importantissimo provare, voglio dire, in qualche maniera implementarla questa. E dopodiché ovviamente delle iniziative che possono aiutare. Faccio un esempio, ci sarà un'iniziativa appunto che aveva fatto l'assessore Maiorino con altri assessori dove alcuni rifugiati puliscono la città. Io credo che sia quello un pezzettino di inclusione sociale, piccolino, ma voglio dire, far percepire che la persona, tra virgolette, straniera non è straniera. Poi c'è un progetto Bella Milano, è stato allargato anche a disoccupati, a persone in difficoltà, quindi anche italiani. Non è solo che poi molti se no dicono, invece è aperto a chiunque abbia la volontà, la voglia, la volontà di impegnarsi per la propria città. Fa specie che spesso volentieri appunto sono magari dei rifugiati che sono qui da pochi mesi o settimane che sentono già proprio la loro città. Certo, qualcuno l'ha anche dichiarato, ha detto io devo tutto a Milano e quindi ridò praticamente un pezzo di quello che Milano mi ha dato, lo ridò molto molto volentieri e questo lo dobbiamo secondo me fare con tutti. Guardate, io ho una mia esperienza a Lione di tantissimi anni fa, avevano un problema per esempio molto forte con una componente francese algerina che in Francia è molto presente e in una periferia di Lione c'era effettivamente un problema molto serio. Il sindaco fece una roba intelligentissima, mise al tavolo tutti i vari componenti di questa grandissima famiglia e appunto con loro provò a fare un progetto di tutela del verde pubblico, delle pulizie e delle strade. Cioè le rese praticamente protagonisti della loro città e del loro quartiere. Forse tutto non elimini ma secondo me buona parte riesci in qualche maniera. Comincia a fare un po' di contaminazione, piccole gocce che possono poi dopo portare a far cambiare il sistema. E poi lasciami dire una roba. Sì, sì, prego, prego. Abbiamo ancora qualche minuto. Noi abbiamo un problema serio e oggettivo a 360 gradi, cioè non è solo alcune persone che sono degli incivili. Molto spesso noi lo vediamo, lo vedo io sotto casa mia, abbiamo perfettamente, si può usare il termine imbecille in televisione, credo di sì, che lascia il sacchetto della spazzatura dentro il bidone cittadino dell'ANSA. Questo è un atto di inciviltà che voglio dire... Dentro ancora tanto, io lo vedo di fianco. O di fianco, esatto. Quindi questo è a livello incivile proprio che dovremmo indignarci tutti dinanzi a un'inciviltà del genere. E quella infatti è una cosa che secondo me viene un po' a mancare troppo spesso, l'idea di indignarci perché quella è anche roba nostra. E certo, il bene pubblico. Ecco, il bene pubblico forse è una cosa che un po' si è persa. E in questo io devo dire, sto riconoscendo che invece i municipi stanno facendo un gran lavoro perché stanno avvicinando, avvicinando secondo me sempre di più tu che vivi in una zona, alla tua zona, alle cose di quella zona che quindi diventano cose tue, in un certo senso. Assolutamente sì, assolutamente sì. E la cosa che secondo me dobbiamo anche fare è provare a fare tra virgolette un po' di emorragia. Non esiste il municipio 6, esistono i 9 municipi e tutti dobbiamo in qualche maniera contaminarci con altri municipi e collaborare. E infatti, quanto è importante essere riuscite a collaborare tra municipi? Perché immagino che insomma non può, se già Milano è da pazzi pensare che finisca i confini del comune di Milano, c'è ancora più da folli pensare che il municipio 6 finisca al confine del municipio 6, no? Ecco, cioè, se siamo in una società che molti definiscono fluida, le città in questo momento sono forse la cosa più fluida che esistono, Milano dove finisce? Boh, per alcuni finisce a Venezia, per altri finisce a Torino, per altri finisce a Bergamo, insomma, sono metropoli che si espandono e si contracciono avanti e indietro. Credo che anche i municipi siano un po' così, no? Assolutamente sì, tra l'altro Milano ovviamente con i navigli effettivamente va fino a Venezia. Non ci sarebbe neanche. Però no, assolutamente, ma io credo che la collaborazione fra municipi sia importante personalmente, ma anche altri municipi che non sono proprio, per esempio, di centro-sinistra, pezzi di collaborazione c'è sempre. Si riesce. Più che da, diciamo, un ragionamento di partiti o quant'altro, credo che sia un ragionamento di intelligenza individuale, no? Il bene pubblico, lo dicevo prima. No, devo dire che siamo tutti fortunati a Milano, perché comunque sia che da l'una o dall'altra parte, e siete politici, tutti quanti iscritti al vostro partito è ovvio, ma nel momento in cui amministrate forse la tessera la lasciate un po' più sulla schivania per andare a spocarvi le mani, mi sembra, tutti i municipi, insomma, devo dire che su questo forse siamo stati fortunati a Milano. Credo che sia determinante il fatto di, nel momento in cui vai a amministrare una città, tu non amministri quelli che ti hanno votato, amministri tutti i cittadini, anche quelli che non ti hanno votato. E amministrare una città è molto più difficile, ovviamente, che in qualche maniera stare all'opposizione dove tutto non va bene, quindi ogni tanto molto spesso addirittura si esagera, lo dicevo prima, con il termine abusato di sicurezza e degrado, in qualche maniera l'opposizione ci calca su queste due parole, proprio perché sono delle parole ad effetto. Io credo invece, nel momento in cui tu vai ad amministrare, amministri proprio tutti, chi ti ha votato e chi non ti ha votato, e questo lo devi fare con rigore e serietà. Perfetto, allora siamo in chiusura, ricordiamo allora però, Assessore, resta in zona 6, pagina Facebook, resta in zona 6, sul sito del municipio www.comune.milano.it slash municipio 6, tutte le rassegne, partecipate numerose, tutti gli ingressi sono, non l'abbiamo detto, ma lo davamo per ovvio, assolutamente gratuiti, cioè chiunque può andare. Lo davamo per scontato, ma non è scontato, in una città come Milano, soprattutto quelli dei municipi 7 e 6 che sono vicini a noi, possono venire tranquillamente, non abbiamo barriere nel municipio 6. Non c'è, non vi chiedo, non vi chiedo il passaporto del municipio 6. Assolutamente, assolutamente. Vabbè, Assessore, allora io la ringrazio tantissimo per essere qui con noi, so che sono settimane di lavoro forti, perché sta anche facendo le vici del Presidente che in questo momento è in vacanza, quindi proprio le dà il cambio, quindi insomma sono settimane belle, impegnative. Sì, giustamente ci turniamo e quindi poi andrò io nelle mie meritate ferie, quindi tornerò a voi. Quindi sarà il Presidente a dover fare le vici anche dell'Assessore, abbiamo un ottimo rapporto, diciamo, di... Credo che questo si veda anche poi nell'operato che è fatto e credo che i cittadini lo possano tranquillamente testimoniare, perché è davvero un grande lavoro quello dei municipi, in particolare in questo caso i municipi 6, ma state veramente facendo un grande lavoro. Prendo lei, perché lei qui oggi voglio fare i complimenti ai municipi di Milano che si stanno davvero impegnando per diventare qualcosa di utile, comodo, interessante per i cittadini, per l'utente finale, come si dice spesso volentieri. Grazie, le prendo volentieri, le rigiro sicuramente anche al Presidente Minniti. Perfetto, grazie mille allora. Grazie a voi a tutti, grazie. Grazie a voi che ci avete seguito, l'appuntamento come sempre torna domani, sempre qui in diretta alle 12.30. Grazie mille, arrivederci e a presto.